Parte da Sant'Adi la prima delle dieci tappe del percorso partecipativo Camminiamo insieme nel parco per la promozione del parco naturale regionale di Guttulumanu, la grande area boschiva compresa tra i comuni di Sant'Adi, Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domusne Maria, Uta, Assemini, Capoterra, Sarroc e Teulada. Domani, mercoledì 8 febbraio, dalle 17 alle 19.30 nell'aula consigliare del centro del Basso Sulcis, il primo di dieci incontri, uno per ogni comunità del parco. Un incontro organizzato per ascoltare, dialogare, condividere idee e strumenti, trovare ispirazione e scoprire nuove opportunità. Si parte da come è il parco oggi per immaginare cosa potrebbe essere il parco domani. Da qui la necessità della più ampia partecipazione attiva è tutti coloro che hanno a cuore il parco e desiderano contribuire alla sua costruzione condivisa. Le dieci tappe infatti saranno l'occasione per raccogliere contributi ed esperienze utili alla costruzione del programma di sviluppo economico sociale del parco, soprattutto se provenite da chi già abita e vive il parco. Un'opportunità di dire la propria offerta a tutti i cittadini e a tutte le associazioni dei comuni che ruotano intorno all'importante area naturalistica della Sardegna sud-occidentale.